Semi di pace nell'inverno della guerra, così Papa Francesco definisce i cattolici del Medio Oriente in una lettera a loro indirizzata e scritta in occasione dell'anniversario della guerra che insanguina la striscia di Gaza e che sta vivendo un ampliamento del conflitto verso il Libano. La miccia dell'odio non si è spenta ma è deflagrata in una spirale di violenza nella vergognosa incapacità della comunità internazionale e dei paesi più potenti di far tacere le armi e di mettere fine alla tragedia della guerra. Si legge nella lettera in cui Francesco sottolinea che pare che a pochi interessi ciò che più serve e che la gente vuole, ovvero dialogo e pace. Gli uomini oggi non sanno trovare la pace e noi cristiani non dobbiamo stancarci di chiederla a Dio, prosegue la missiva in cui Bergoglio ricorda che preghiere e digiuno sono le armi dell'amore che cambiano la storia, che sconfiggono il nostro unico vero nemico, lo spirito del male che fomenta la guerra. Il pontefice si dice vicino a tutti gli uomini e le donne di ogni confessione e religione che in Medio Oriente soffrono per la folia della guerra. Sono con voi, ricorda il Papa. Non mi stanco di ripetere che la guerra è una sconfitta, che le armi non costruiscono il futuro ma lo distruggono, che la violenza non porta mai pace, aggiunge Bergoglio e conclude. La storia lo dimostra. Eppure, anni e anni di conflitti sembrano non aver insegnato nulla.